Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Questo diceva una volta la regina Grimilde pensando di essere la più bella al mondo. Oggi invece penso che la regina Grimilde si ritirerebbe a vita privata perché di Biancaneve oggi qui alla Fiera di Roma ne vediamo tante. Infatti amiche ci troviamo alla Fiera di Roma per la settima edizione di Roma International Estetica. Un mondo dedicato alla bellezza a 360 gradi. Volete saperne qualcosa di più? Andiamo insieme a dare un'occhiata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.